andiamo a prendere delle canzoni improbabili per il basso e tiriamone fuori qualcosa anche ad esempio per esercitare e migliorare la nostra tecnica sullo strumento questa qua è milagro di madame e non essendoci un basso comunque il basso va appoggiare di accordi suonando molto sul grave molto profondo probabilmente non è neanche un basso elettrico mai fatto con le tastiere allora andiamo a prendere quello che suona la chitarra quello che sento io è un do che va sul re diesis scusami un re che va sul do diesis quattro volte e poi il do diesis sul si quindi contiamo come avrai visto la mia mano è bella ferma e quindi questo è un ottimo esercizio per migliorare l'apertura della mano io l'ho fatto un po in questa porzione e un po sull'acuto dove vado a prendere le stesse note quindi al tasto 12 della corda di re quindi vado a fare 4 e 3 avrei potuto prenderlo anche ad esempio sulla corda di sol vado a prendere il re sempre con il mignolo non non no ci Come fiori Come fiori